193 arresti e 2038 persone denunciate sono questi i principali numeri dell'attività svolta nel corso del 2023 dai carabinieri in provincia di lucca un anno che tra piana via reggio e la garfagnana ha visto intensificare i controlli sia sul fronte del contrasto ai furti alle rapine che per lo spaccio di droga con sequestri ingenti di stupefacente nell'anno appena concluso sono stati compiuti in provincia di lucca 13.483 reati di cui bell'ottanta per cento è stato denunciato nelle stazioni dei carabinieri 24.500 i servizi di pattuglia e per l'ustrazione con il controllo di 99.470 persone e 75.830 autovetture a cui si è aggiunto il sequesto di circa 150 kg di stupefacenti attività che confermano il costante impegno degli oltre 400 carabinieri in servizio in provincia di lucca